Dopo una notte da Leoni è riapparso Robach. Avrete seguito sicuramente in questa paradossale sosta per le nazionali l'avventura dell'attaccante svedese, il giovane attaccante svedese che era scomparso per due settimane e per fortuna è riapparso. Ma non è riapparso solo lui, non è riapparso solo lui, sono riapparsi anche gli infortuni. Ci apprestiamo a vivere un weekend intenso ed importante perché giocheremo con la Juventus che a sua volta avrà delle assenze, poi vedremo se confermate, vedremo quanta pretattica ci sarà da parte di Allegri per una partita che non inizia, se vogliamo considerare oggi il primo giorno d'attesa dopo le nazionali, non inizia sotto i migliori auspici perché è notizia di oggi dell'infortunio di Sportiello, a questo sommiamo l'infortunio di Chukwese nazionale, tra l'altro poi io un giro al campo, non so dove la Nigeria prepari le sue partite, ma un giro al campo io ci manderei sempre qualcuno con perché Osimena ha sfasciato, Chukwese ce l'ha sfasciato, sarebbe meglio andare a dare un'occhiata, poi qualcuno dirà anche ma se mandiamo i nostri cambia poco, potrebbe essere un punto di vista interessante pure questo, perché pare che Sportiello si sia fatto male al polpaccio in un infortunio abbastanza simile, almeno da quello che si apprende così dalle prime note, a quello che ha avuto Mignano. Ora, io non entro come sempre e come ho sempre fatto, non entro nel merito delle questioni atletiche, sanitarie, medico-sportive. La sensazione da uomo della strada, così da tifoso che osserva e che ogni anno spunta, no? Infortunio, trac, infortunio, trac, infortunio, trac, è che un ragazzo che dal 2016 non si era mai neanche fatto un'unghia incarnita, si è fracassato il polpaccio. La cosa appare alquanto sospetta. A questo infortunio, che lancerà probabilmente Mirante oppure il Giovane Nava, ma io credo Mirante, insomma, anche perché buttare nella mischia un ragazzo della primavera così, in una partita così importante, mi sembra sinceramente un rischio molto molto grosso, poi qualcuno dirà, ma insomma, anche Mirante non è che... però almeno un po' di esperienza, ecco, almeno un po' di esperienza. La sfortuna di averla combinata tra l'espulsione di Mike e l'infortuna di Sportiello ci porta domenica a giocare con una difesa che sarà un po' rivista, perché non c'è nemmeno Teo e quindi giocherà probabilmente Florenzi, si è parlato in Bartesaghi, ma anche qui non credo. E poi c'è la questione dei dei giocatori a centrocampo. Le indicazioni di oggi ci fanno pensare a un centrocampo con Reinders, Musa e Adli. Krunic e Lost of Cic hanno fatto la prima parte dell'allenamento con la squadra e la seconda parte da soli. Siamo giovedì, non so, la sensazione è che saranno convocabili, ma non credo titolari, a meno che, insomma, non ci siano smentite. Poi sentiremo ovviamente sabato le parole di Pioli e ne capiremo di più. Certo è che arrivano due squadre abbastanza incerrottate, oltretutto noi perdiamo, e questo sì potrebbe essere un problema, un'alternativa sul lato destro del campo, perché è vero che Pulisic è il titolare e su questo non ci sono dubbi, ma è anche vero che l'infortunio di CQS ci priva, da un punto di vista anche di Champions League, dove ad esempio il giovane Romero non è in lista, ci priva di un'alternativa e quindi lì dovremo fare qualche cosa, perché sono tre partite strepitose che giochiamo in una settimana, tra l'altro, apro una parentesi, la bellezza dell'attesa di questi eventi, di due partite, perché è vero che dici calendario, fatto, però immaginatevi che meraviglia per un tifoso aspettarsi una settimana con Juventus, Paris Saint Germain e con il Napoli. Molto bene, almeno per quello che mi riguarda, io non vedo l'ora che sia domenica sera e poi la prossima settimana. Per quello che riguarda la partita con la Juve, tra l'altro parlando dei tre impegni, dovremmo fare di conto con la situazione dei giocatori, anche se recuperando Loftus-Cic e Krunic riportiamo il centrocampo nella dimensione della massima disponibilità per Pioli ed è importante, ma delle tre partite credo che quella più insidiosa, almeno dal mio punto di vista, sia la terza sia quella con il Napoli, perché la Juventus bene o male la conosciamo. Sappiamo grosso modo come gioca, sappiamo quali potrebbero essere gli inghippi, magari poi ne parleremo ovviamente, anche domani con Vincenzo a Friday Night Live alle 13, mi raccomando, in diretta. Quella col Paris Saint Germain è un banco di prove importantissimo, perché sfidiamo un Bappé a casa sua con un Paris che sta prendendo una certa piega positiva dopo un avvio ovviamente di necessaria comprensione rispetto ai dettami di Luis Enrique e quella col Napoli è quella che mi preoccupa fra virgolette di più, perché? Perché non conosco l'avversario, cioè la Juventus so che cosa aspettarmi e so che tipo di partita aspettarmi. A Parigi so che tipo di partita aspettarmi, con i leoni feriti io sono un po' più timoroso, perché non sappiamo come il Napoli arriverà a quella prova, avranno la Champions anche loro in settimana, ma abbiamo visto che tutto il momento delicato dei campioni d'Italia potrebbe portarci a giocare una partita con un avversario che o ha un tracollo finale, per quel che riguarda l'esperienza di Rudy Garcia, che è rimasto saldo sulla panchina del Napoli nonostante le turbulenze di questa sosta per le nazionali, oppure potrebbe anche fare un partitone. È chiaro che l'assenza di Osimane è un grande vantaggio per noi, è inutile negarlo, una volta tanto ci possiamo prendere lo sfizio di dire, oh, meno male che non c'è, no? Ecco, quindi questa è sicuramente una cosa buona per noi, però io non mi fido mica, comunque avremo modo anche lì di parlarne. Intanto pensiamo a domenica, pensiamo a mettere insieme una squadra, poi il discorso di Sportiello è chiaro che è un discorso che deve obbligarci a mettere Mike sotto la teca, perché Mike è squalificato ma torna, ovviamente gioca a Parigi, ovviamente giocherà col Napoli, ma guai volesse il cielo che dovesse venirgli un raffreddore, e insomma la situazione si fa complicata. Così come dicevo la situazione sul lato destro, perché Pulisic titolare, ma l'alternativa a questo punto, se continueremo a giocare col 4-3-3, costringerà Pioli, ma anche dovessimo passare al 4-3-1 sarebbe uguale, costringerebbe Pioli a trovare, nel caso in cui dovessimo dare un po' di fiato, un po' di respiro a Pulisic, delle soluzioni alternative, come ad esempio, adesso mi viene in mente solo Okafor, senza voler considerare ecco il giovane Romero già utilizzabile, perché insomma è giovane e affidare le responsabilità di quel lato, abbiamo visto anche col Cucuese come sia una cosa potenzialmente complicata. Quindi vediamo che cosa succede, ovviamente confidiamo nel massimo apporto della fortuna affinché non avvengano altri infortuni, che tra l'altro adesso parlando seriamente sono abbastanza generalizzati, perché è chiaro che tra le nazionali, tra le partite ogni tre giorni lo sfascio è dietro l'angolo, quindi questo è un problema al quale tutte le squadre devono far fronte, tutte le squadre, abbiamo appena detto di Osimen e quindi immaginatevi voi, comunque insomma speriamo, incrociamo l'incrociabile affinché questa sia l'unica notizia negativa da qui, a domenica, a domani.